Oggi si era riunita la Commissione Sanità per quanto riguarda la nuova rete ospedaliera in un confronto preliminare di una bozza che verteva ad un confronto onesto e trasparente con le minoranze. Questo purtroppo non è stato possibile per l'atteggiamento di alcuni consiglieri di minoranza che sono venuti in maniera pretestuosa e ostruzionistica a questa discussione che doveva essere preliminare al progetto di legge. Ciò non è avvenuto e quindi la Commissione è saltata per decisione della maggioranza che andrà dritta per la propria strada, quindi per fornire una sanità migliore ai cittadini abruzzesi.